A seguire, diciamo, in buona parte, siamo ancora qui presenti, non c'è stata la grande fuga, diciamo. Stiamo arrivando verso la conclusione e interviene non come ultimo ma come penultimo, perché intervierà poi anche Rosario Atanasio, della Puglia. Ci sono, quindi, abbiamo visto intervenire i soggetti dalle più variate città d'Italia. E Thomas viene da Bozzano, che è impegnato nel percorso attuale della Costituzione ed è attivo in questo percorso insieme ad altri, a Lidia Meravaggio, mi pare che è stata citata più volte. E sicché, diciamo, il suo intervento è interessante per poter pensare anche a quello che si può fare in questa zona d'Italia di confine, diciamo. Grazie. Grazie. Buonasera, grazie Paolo, appunto mi chiamo Thomas Baglietti, abito a Bozzano. Mi sono trasprito a Bozzano sei anni fa, dal Piemonte, dalla provincia di Novara, quindi quasi vicino a Matteo. Io ho ben presente le Valle dell'Ossola, non solo per come le descritte, ma anche per i racconti che ho la fortuna di poter ascoltare da Lidia, una pace che abita anche lei a Bozzano dal 1952 e anche lei si è trasferita da Novara. Devo dire che non è che abbia un intervento da fare in particolare, perché mi associo a tutti gli interventi che sono stati fatti oggi e, come diceva prima Paolo, magari posso portare l'esperienza che stiamo vivendo a Bozzano, in un territorio di confine, in un territorio che ha all'interno proprio il costrutto, un accordo liberista, in quanto il rapporto con la parte germanica è quotidiana. E proprio ieri arrivo da un convegno che è stato organizzato alla Libera Università di Bozzano dove per la prima volta sono riusciti a trattare argomenti che da anni, come Moreno, come si ha detto prima, stiamo cercando di far emergere all'opinione pubblica, sono riusciti ad essere stati invitati sia il professor Bagnaio che il professor Giacchè e quindi si è iniziato ad aprire un piccolo varco. Certo che non è facile perché, come è stato detto prima, arriviamo da, come lo definiva Pasolinda, un genocidio culturale che ormai dura da 50 anni e quindi dobbiamo renderci conto un po' com'è la società oggi. Quindi quello che posso dire magari, riprendendo l'esperienza del Comitato di Bozzano che è stato il primo che si è messo insieme lo scorso 4 dicembre del 2017, proprio ad un anno di distanza dal referendum costituzionale, è che esercitare la parte di sovranità popolare che ci appartiene secondo Costituzione non è così scontato perché vuol dire, lo stiamo vivendo ormai da un anno all'interno del Comitato di Bozzano perché ci sono stati poi i lavori preparatori, vuol dire mettere in discussione noi stessi, noi stessi, si è parlato prima dell'importanza del linguaggio, ecco come ci insegna Lidia il linguaggio inclusivo, l'Italia ripudia la guerra, recita l'articolo 11, ecco nel nostro atto costitutivo, parafrasando l'articolo 11 abbiamo scritto noi ripudiamo il linguaggio bellico e militare, ogni tipo di violenza, di prevaricazione, non solo fisica, questo per cercare di entrare in sintonia con la Costituzione della Repubblica Italiana. Se posso dire magari l'ultima cosa, peccato che è andato via il professor Rinaldi perché riguardava specialmente lui, dato che per fortuna comunque ha un po' portato l'atteggiamento di questi anni di lotta, facendo venire a gallo un po' quello che ci riguarda appunto, cioè la sovranità popolare, purtroppo è stato etichettato con una termine che non ci aiuta, ossia sovranismo o fronte sovranista e quindi ripeto, quando mi hanno chiesto una volta, ma lei è sovranista, in tono anche un po' dispreciativo, ho risposto no, non sono sovranista, cerco di esercitare la mia parte di sovranità popolare che la Costituzione mi attribuisce. Ecco forse magari nel cercare di coinvolgere le persone fuori da qui potrebbe aiutarci proprio per stare tutti insieme e quindi sia esercitando in modo individuale ma anche collettivo. Grazie.